il figlio cambiato avevo udito urlare durante tutta la notte e a una certora fonda e perdurata tra il sonno e la veglia non avrei più saputo dire se quelle urla fossero di bestia o umane la mattina dopo venne a sapere dalle donne del vicinato che erano state disperazioni levate da una madre una certa saralongo a cui mentre dormiva avevano rubato il figlio di tre mesi lasciandogliene in cambio un altro rubato e chi gliela rubato le donne le donne che donne mi spiegarono che le donne erano certi spiriti della notte strega dell'aria sballordito e indignato domandai ma come e la madre ci crede davvero quelle brave comari erano ancora così tutte accorate e atterrite che del mio sballordimento e della mia indignazione soffesero mi gridarono in faccia come se volessero aggredirmi che esse alle urla saranno accorse alla casa della longo mezzignude come si trovavano e avevano visto coi loro occhi il bambino cambiato ancora là sul mattonato della stanza ai piedi del letto quello della longo era bianco come il latte biondo come l'oro un gesù bambino e questo invece nero nero come il fegato e brutto più brutto di uno scimmiotto che avevano saputo il fatto come era stato dalla stessa madre che se ne strappava ancora i capelli cioè che aveva sentito come un pianto nel sonno e si era svegliata aveva steso un braccio sul letto in cerca del figlio e non aveva trovato si era allora precipitata dal letto e acceso il lume aveva veduto là per terra invece del suo bambino quel mostriciattolo che l'orrore e il ribrezzo ne avevano perfino impedito di toccare notare che era ancora in fascia il bambino della longo ora un bambino in fascia cadendo per inavvertenza della madre nel sonno poteva mai schizzare così lontano e coi piedini verso la testata del letto vale a dire al contrario di come avrebbe dovuto trovarsi era dunque chiaro che le donne erano entrate in casa della longo nella notte e le avevano cambiato il figlio prendendosi il bambino bello e lasciandogliene uno brutto per farle dispetto ne facevano tanti di quei dispetti alle povere mamme levare i bambini dalle culle e andare a deporli su una sedia in un'altra stanza farli trovare dalla notte al giorno coi piedini sbiechi e con gli occhi strabi e guardi qua guardi qua mi gridò una acchiappando di furia e facendo voltare il testoncino a una bimbetta che teneva in braccio per mostrarmi che aveva sulla nuca un codino di capelli incatricchiati che guai a tagliarli o a cercare di districarli la creaturina ne sarebbe morta che le pare che sia treccina treccina delle donne appunto che si spassano così di notte tempo sulle testine delle povere figlie di mamma stimando inutile di fronte a una prova così tangibile convincer quelle donne della loro superstizione mi impensierì della sorte di quel bambino che rischiava di rimanerne vittima nessun dubbio per me che doveva essergli sopravvenuto qualche male durante la notte forse un insulto di paralisi infantile domandai che intendesse fare adesso quella madre mi risposero che l'avevano trattenuta a viva forza perché voleva lasciar tutto abbandonare la casa e buttarsi all'avventura in cerca del figlio come una pazza e quella creaturina là non vuole né vederla né sentirne parlare una di loro per tenerla in vita le aveva dato a succhiare un po di pan bagnato con lo zucchero avvolto in una pezzuola formata a modo di capezzolo e mi assicurarono che per carità di dio vincendo lo sgomento e il raccapriccio avrebbero badato a lei un po l'una e un po l'altra cose che in coscienza almeno nei primi giorni dalla madre non si poteva pretendere ma non vorrà mica lasciarla morire di fame riflettevo tra me e me se non fosse opportuno richiamare l'attenzione della questura su quello strano caso allorché la sera stessa venne a sapere che la lungo si era recata per consiglio da una certa vanna scoma che aveva fama ad essere in misteriosi commerci con quelle donne si diceva che queste nelle notti di vento venivano a chiamarla dai tetti delle case vicine per portarsela attorno con loro restava lì su una seggiola con le sue vesti e le sue scarpe come un fantoccio posato e lo spirito se ne andava a volo chissà dove con quelle streghe potevano farne testimonianza tanti che avevano appunto sentito chiamarla con voci lunghe e lamentose zia vanna zia vanna dal proprio tetto si era dunque recata per consiglio da questa vanna scoma la quale in prima e si capisce non aveva voluto dirle nulla ma poi pregata e ripregata mani giunte le aveva lasciato intendere parlando a mezz'aria che aveva veduto il bambino veduto dove veduto non poteva dire dove ma stesse tranquilla perché il bambino dove stava stava bene a patto però che anche lei trattasse bene la creaturina che le era toccata in cambio vadasse anzi che quanta più cura lei avrebbe avuto qua per questo bambino e tanto meglio di là si sarebbe trovato il suo mi sentì subito compreso d'uno stupore pieno d'ammirazione per la sapienza di questa strega la quale perché fosse in tutto giusta tanto aveva usato di crudeltà quanto di carità punendo della sua superstizione quella madre col farle obbligo di vincere per amore del figlio lontano la ripugnanza che sentiva per quest'altro il ribrezzo del seno da porgergli in bocca per nutrirlo e non levandole poi del tutto la speranza di potere un giorno riavere il suo bambino che intanto altri occhi se non più i suoi seguitavano a vedere sano e bello com'era che se poi com'era certo tutta questa sapienza così crudele insieme e caritatevole non era adoperata da quella strega perché fosse giusta ma perché ci avesse il suo tornaconto con le visite della longo una al giorno e per ognuna un tanto sia che le dicesse di avere veduto il bambino sia che le dicesse di no e più quando le diceva di no questo non toglie nulla alla sapienza di lei e d'altra parte io non ho detto che per quanto sapiente quella strega non fosse una strega le cose andarono così finché il marito della longo non arrivò con la goletta da tunisi marinaio oggi qua domani là poco ormai si curava della moglie e del figlio trovando quella smagrita e quasi insensata e questo pelle e ossa irriconoscibile saputo dalla moglie che erano stati ammalati tutte e due non chiese altro il guaio avvenne dopo la partenza di lui che la longo per maggior ristoro ammalò davvero altro castigo una nuova gravidanza e ora in quello stato e aveva così cattive specialmente nei primi mesi le gravidanze non poteva più recarsi ogni giorno dalla scoma e doveva accontentarsi di usar le cure che poteva a quel disgraziato perché non ne mancassero là al suo figliuolo perduto si torturava pensando che non sarebbe stata giustizia dato che nel cambio ci aveva scapitato lei e il latte prima per il gran dolore le era diventato acqua e ora incinta non avrebbe potuto più darlo non sarebbe stata giustizia che il suo figliuolo fosse cresciuto male come pareva dovesse crescere questo sul colluccio vizzo il testoncino giallo un po' su una spalla un po' sull'altra e cionco forse di tutte e due le gambine intanto da tunisi il marito le scrisse che durante il viaggio i compagni gli avevano raccontato quella favola delle donne nota a tutti meno che a lui sospettava che la verità fosse un'altra cioè che il figlio fosse morto e che lei avesse preso dall'ospizio qualche trovatello in sostituzione e le imponeva di andare subito a riportarlo perché non voleva in casa bastardi la longo però al ritorno tanto lo pregò che ottennesse non pietà sopportazione per quell'infelice lo sopportava anche lei e quanto per non far danno all'altro fu peggio quando alla fine il secondo bambino venne al mondo perché allora la longo naturalmente cominciò a pensar meno al primo e anche per conseguenza ad avere meno cure per quel povero cencio di bimbo che si sa non era il suo non lo maltrattava no ma ogni mattina lo vestiva e lo metteva a sedere davanti alla porta sulla strada nel seggiolino ad ondolo di tela serata con qualche tozzo di pane e qualche meluccia nel cassettino del riparo davanti e il povero innocente se ne stava lì con le gabbine cionche il testoncino ciondolante dai capelli terrosi perché spesso gli altri ragazzi della strada gli buttavano per chiasso la rena in faccia e lui si riparava col braccino e non fiatava nemmeno era assai che riuscisse a tenere ritte le palpebre sugli occhietti dolenti sudicio se lo mangiavano le mosche le vicine lo chiamavano il figlio delle donne se talvolta qualche bambino gli si accostava per rivolgergli la parola egli lo guardava e non sapeva rispondere forse non capiva rispondeva col sorriso triste e come lontano dei bimbi malati e quel sorriso gli segnava le rughe agli angoli degli occhi e della bocca la longo si rifaceva alla porta col neonato in braccio roseo e paffuto come l'altro e volgeva uno sguardo pietoso quel disgraziato che non si sapeva che cosa ci stesse più a fare lì poi sospirava che croce si ne spuntava ancora di tanto in tanto qualche lacrima pensando a quell'altro di cui ora vanno a scoma non più richiesta veniva a darle notizie per scroccarle qualcosa notizie liete che il suo figliuolo cresceva bello e sano e che era felice